ma da tutti ragazzi benvenuti sono il vostro metti mars senza oggi senza webcam perché vabbè tanto non penso che mancherà vedere il mio faccione oggi mandava di farlo senza webcam siamo su airport seo ho detto all'italiana airport ceo ceo perché perché questo è l'ultimo ritrovato degli aeroporti ovvero l'aeroporti per i non vedenti compresi anche i piloti sono non vedenti però diciamo il biglietto costa meno quindi io la metà metici andrei avrei il coraggio in realtà no perché diciamo che io spesso devo prendere l'aereo e quando prendo l'aereo la notte non dormo dal nervoso perché non per me è nata tragedia e mi tocca anche prenderlo spesso quindi niente questo gioco qua mi incuriosisce abbastanza riesco a dirlo incuriosisce ok iniziamo la nuova avventura stesso masculo è una prova contraria fa anche quello non si sa continua allora io si può fare in tutto il mondo dai andiamo che fa andiamo a roma a roma vai l'ho beccato subito facciamo roma aeroporto che mettiamo la sigla roa perché roma non mi piace e mettiamo mappa grande monetà gestione facile eccoci qua questo è il nostro bel aeroporto vuoto senza niente questo è il pannello di introduzione questo vi sto lampeggiando questo è il pannello di gestione io ora vi faccio vedere le cose velocemente questo è il pannello dell'economia poi ragazzi se volete magari un video anche più dettagliato me lo dite magari se volete ci facciamo una serie ma insomma non credo sia questo il caso poi sempre ditemelo voi con i commenti con i like eccetera eccetera questa è la scheda dell'operazione intanto abbiamo l'aeroporto abilitiamo l'aviazione generale e usiamo le piste sempre quelle più vicine ok noi per il momento si da quello che ho capito siamo un aeroporto commerciale che dice vari pannelli pannello di pianificatore ok aeroporto piccolo dobbiamo fare l'aeroporto piccolo allora prima di tutto dobbiamo fare il contratto dobbiamo assicurare un bel contratto ok economia contratti offerti c'è questo a avva vava non lo voglio non mi piace voglio prendere questo brickley brickley my brickley che ci da un pochino più di personale lo andiamo a prendere su operazioni costruzione andiamo a prendere i personali 133 non vediamo a spesa abbiamo 3 milioni di dollari ok adesso aspettiamo che gli opere arrivano con calma eccoli qua e adesso facciamo l'aeroporto piccolo mettiamo il tempo in un attimo ste calmo con il tempo rapporto piccolo pista piccola in asfalto allora cerchiamo di metterlo più o meno al mezzo tacere poi dobbiamo inserire tanto io ve lo dico già il gate anzi prima del gate abbiamo la rampa la rampa della pista facciamo uno e 12 e poi mettiamo il gate il gate per ultimo ragazzi il la via del rullaggio racchete e adesso il gate il gate l'eroporto dice almeno cinque metterà di più uno due tre quattro cinque e sprecio sei ti è adesso loro hanno ricevuto praticamente l'ordine appena arrivano diciamo qua arriveranno dei camion che piazzeranno tutti diciamo gli attrezzi per costruire tutte la merce che serve per costruire se questo si leva le maroni no l'altro passo e scarica la roba niente va bene ok poi dobbiamo una volta fatto tutto ciò una volta che sarà costruito tutto ciò dovremmo diciamo costruire il percorso del rullaggio ok noi ci anticipiamo dobbiamo dirgli all'aereo quale sarà percorrere in realtà il senso di marcia è doppio quindi possono entrare come uscire da quello che ho capito poi lui vuole che facciamo anche la torre di controllo la mettiamo qua in più io voglio fare la manica a vento e poi voglio fare anche la stazione meteorologico anche se lui rimane un po indietro se si muovessero i ragazzi sta scaricando vedere tutto il materiale a spruzzo il camion stava scaricando spruzzo ragazzi come ve l'ho detto se non hanno immagini bella ma questo è dove sono andati come formichine bravi bravi di vero belli impegnati bene allora tornando indietro per svendersi la robina poi faremo anche la strada eh la sta andando abbastanza velocemente ragazzi che non voglio fare un video troppo lungo e voglio far vedere dobbiamo mettere la rete per le guacche da le guacche fanno i cacchi d'ora sulla pista dovremo aprire hamburger king perché almeno quando lei ha rotto la vacca facciamo gli hamburger con quello che rimane vai adesso loro hanno costruito quasi tutto vedete tutorial va avanti questo momento di accettare il tuo primo volo al momento possiamo accettare solo voli agi aviazione generale in aereo di tipo piccolo per piloti privati ecco quindi pensavo fossero commerciali invece non sono privati va bene qui dobbiamo attivare la pista vedete che noi per il momento possiamo fare aereo piccolo aereo generale praticamente sono i privati ok e adesso dobbiamo aspettare che terrino cinque voli niente difficile a mi avete aspetta dobbiamo mettere la rete rompipalle perché poi tanto mi tocca metterla e per esempio le vanno perché per costruisco altre cose scinzione promi almeno qui li ho per ora la metto solamente qua e poi fatemela metterla anche qua ma non dovremmo togliere 70 mila volte rimetterla 70 mila volte che capita poi dobbiamo mettere un po' di cancelli quando qua vabbè il cancello non è che servirebbe poi l'ho messa sempre che manca sempre un quadratino ovunque ok per ora la facciamo sentono lo stesso è però un po un po meno speriamo tanto non è atterrato e vediamo che il volo attivo n36 56 da roma no c'è partita in realtà da state gallin svizzera a roma solamente 13 ore a che presto dai roma svizzera 13 ore ma se ci sta con 12 ore vado a brosile che sono quante sono 12 mila chilometri non mi ricordo sinceramente non voglio dire una mega cavolata ma sono veramente tanti e dove c'è andato in svizzera in svizzera mi sembra che un poio d'orette un'oretta e mezzo mi sembra in svizzera con l'aereo ok loro stanno facendo tutto il discorso e ormai sono tutti i tempi tutte le tratte ragazzi però sono esperto ok e 5 sono atterrati adesso lui vuole ricostruire una stazione di rifornimento e qua facciamo una cosa bella bellina perché noi dobbiamo allungare un po' la strada pubblica ok che diciamo è una strada che usano tutti e qui dobbiamo mettere la strada invece per il servizio diciamo in servizio che noi facciamo quindi qui facciamo tutti i gate qua la strada e dobbiamo mettere un punto di check point perché si deve differenziare dalla strada pubblica insomma c'è qualcuno che dice fermati se no la gente entra con la macchina dentro 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 la pista d'atterraggio e ci parcheggia una macchina pensando che è un parcheggio quindi se no li fermi la gente si fa le stragi non penso neanche a capire perché ok e poi intanto che loro aspettiamo che loro costruiscano noi andiamo avanti e costruiamo sia questo che il deposito ce lo mettiamo qua e sia però anche il deposito carburante perché questo è un deposito veicoli e questo è un deposito carburante ci vogliono tutte e due ok sì deposito carburante in deposito aspettiamo che le costruiscano quindi come giocano con una certa logica grandioso siamo quasi pronti a offrire il servizio di rifornimento a avugaz dobbiamo acquistare un'altra cisterna ok acquista un'altra cisterna avugaz quindi andiamo vediamo un po' veicoli acquistare veicoli assicurarsi che c'è il checkpoint dobbiamo aspettare il checkpoint che sia pronto in realtà è pronto il checkpoint cosa ti manca ok ma era pronta anche prima secondo me ah però vedi che mi sono scordato mi sono scordato una roba mannaggia a me mi sono scordato e voglio vedere come ci pare perché mi sono scordato di fare praticamente la pista per che devo utilizzare la macchina per andare al gate dato cisterna vuole vedere se ci va io non credo però non mi ha fermato beh in funzione del servizio di fornimento ecco devo firmare un contratto anche questa è una cosa molto carina vediamo un po' operazioni economia contratto ecco questa mi sembra quella migliore e abbiamo firmato io non li leggo perché tanto quello c'è da fare ok dobbiamo aspettare il rifornimento per me è più una macchina dell'ambulanza che ok lui sta rifornendo 100% serbatoio principale allora voglio vedere come ci va è andato ma vedi non ci è andato perché non c'è la pista eccoci qua ragazzi ho dovuto rifare la praticamente le due strutture queste due perché lo scordo a lui fa la pista adesso vedete che è andato a rifornire è timido è timido è timido si nasconde no credo che adesso sia quindi dovrebbe mancare quindi dovrebbe mancare niente allora dobbiamo attivare il servizio di rifornimento dalla scheda delle operazioni quindi operazioni vedete che adesso era disponibile questi non sono disponibili perché ancora non abbiamo diciamo il necessario per farlo tipo il servizio di gestione bagaglio pulizia proattiva eccetera eccetera adesso è abilitato e lui dovrebbe rifornire vediamo un po' senza problemi ok quindi il tutto sta diciamo funzionando che arriva niente i rumori fantasmano non c'è visto la vacca rompi palle perché rompi le palle vacca ok congratulazioni appena ho preso le basi del funzionamento dell'aeroporto poi continuare a rispondere del tuo report e per ieri ag va bene congratulazioni a posizione almeno una fermata adesso dobbiamo la faremo se volete il prossimo gameplay dobbiamo fare fermata autobus e parcheggio auto e poi dovremmo fare il terminal se volete ragazzi questo gioco io lo porto avanti però fatemelo sapere nei commenti soprattutto nei commenti nei like eccetera eccetera come il gioco è abbastanza carino e secondo me ha uno sviluppo una progressione di gioco anche abbastanza simpatico e quindi niente ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti il canale twitch discord e instagram ok ci vediamo alla prossima ragazzi ciao a tutti saluto con la mano ma non è la webcam quindi non vi vedete e a dividerci ciao a tutti ciao a tutti